Quarta vittoria consecutiva, decima vittoria su 12 partite disputate, vetta della classifica confermata accanto ad Orlandina e Virtus Ragusa. E questo lo score della Basket Viola che incamera un nuovo successo davanti al sempre più presente pubblico amico, che rappresenta una sorta di rodaggio verso la sfida delle sfide, in programma domenica 17 dicembre all'Info Drive Arena in casa dell'Orlandina. I regini della Viola stavolta vincono seppur non brillando contro un voletivo Cus Catania. Coach Cigarini dà fiducia al russo in quintento, accanto ad Aguzzoli, Tirtisnik, Mavric e Cessel e tiene a riposo il capitano Binelli. Si parte ed il Catania prova a scappare 2-7 con una bella tripola di Valle, ma il vantaggio non raggiunge mai la doppia cifra. Meno 5 al termine del primo quarto. Nel secondo quarto, Seg Cessel e Tirtisnik contribuiscono alla rimonta, in crescita alle prestazioni di Mavric, Aguzzoli, Cessel e della miglior marcatore del torneo, Tirtisnik, che fa intravedere parte della sua forza. Thomas Aguzzoli ha tratti imprendibile, si chiude sul più 8 nel secondo periodo, 32-19. Catania non dà mai realmente l'impressione di poter vincere la gara, Frizzarini e Sochi arrivano sul meno 3 nel terzo periodo. Il ritorno di Aguzzoli e Sochi però è devastante. Coach Cigarini manda in campo Antonio Mazza, che realizza un bel canestro su assist di Sec. La partita scivola via tra terzo e ultimo quarto con poco equilibrio e qualche lampo. Finisce 99-88 per la Viola.